Stefano Malerba, prima tappa di Coppa del Mondo del Cannottaggio, 34 nazioni, oltre 450 atleti, 400 volontari se non di più impegnati, numeri grandissimi per un evento che mette ancora il Lago di Varese e Varese al centro del movimento remiero internazionale. Sì, sì, assolutamente. Credo che questo campo di gara ormai a livello internazionale sia assodato, sia uno dei più apprezzati degli atleti. Ogni anno è un successo, l'organizzazione ormai è più rodata di così, non si può. Vediamo questi tre giorni, saranno tre giorni molto belli, molto interessanti e che porteranno a Varese a essere conosciuto ulteriormente in tutto il mondo.